The New Stories La tua informazione libera La donna, originaria del Benin, è stata soccorsa da alcuni automobilisti che si sono fermati per dare l'allarme, facendo intervenire i sanitari del suo 118. La vittima è stata trasportata al polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento, conferite da coltello al collo, al fianco e alle mani. Fonti dell'azienda ospedaliera di Verona hanno riferito che non è in pericolo di vita e non sarà necessario un intervento chirurgico. L'uomo, fermato dagli agenti delle volanti, è stato portato in questura e arrestato con l'accusa di tentato omicidio su disposizione del magistrato di turno.